Finalmente una giornata dedicata all'investimento socialmente responsabile anche in casa, cioè in Italia. Finalmente abbiamo la nostra giornata dedicata a questo momento. Questo è un modello che viene mutuato, importato dall'estero, dai mercati stranieri, dove periodicamente viene dedicato una settimana all'investimento socialmente responsabile. Mi riferisco a mercati come l'Inghilterra, la Francia, il Belgio. Anche l'Italia adesso si aggiunge alla lista di questi paesi che vogliono diffondere cultura sulle tematiche dell'investimento socialmente responsabile. È importantissimo in Italia che finalmente ci sia questo appuntamento, non soltanto per gli investitori istituzionali che hanno fatto già una scelta di responsabilità sociale per gli investimenti e che quindi vedono valorizzata la loro scelta a livello istituzionale, a livello di paesi, ma anche per quegli investitori istituzionali che non hanno ancora effettuato una scelta di questo tipo e che vedono raggruppate in campo tutte le forze di cui il paese dispone su queste tematiche. Mi riferisco alle agenzie di rating, agli asset manager, mi riferisco alle associazioni, il forum per la finanza sostenibile, mi riferisco alle università. E questo aiuta a fare cultura, aiuta a fare momento e a fare chiarezza e informazione. Quindi speriamo che una giornata come quella di oggi si trasformi in uno stimolo, in un momento di spinta per questi investitori istituzionali che non hanno ancora intrapreso questo percorso, che diventi una curiosità, che la curiosità diventi intenzione, necessità di capire, consapevolezza e azione. C'è molta competenza in campo, ci sono molti professional, molte esperienze da mutuare dall'estero. Gli strumenti per gli investitori istituzionali sono tanti, sono reversibili, per cui il percorso è empirico, si può iniziare e si può riprovare.